Buonasera, come tutti sapete, questo è l'anno in cui Genova è la capitale italiana del libro. Uno degli eventi più importanti lo ospitiamo qua, nel nostro Palazzo Ducale, con un grandissimo premio Nobel, che peraltro è già stato a Genova e l'ha apprezzata tantissimo, come tutti noi ovviamente siamo orgogliosi e l'apprezziamo. Omar, Oran Pamuk, non sono io che devo ovviamente spiegare chi è, perché lo conoscete tutti, io come Palazzo Ducale sono veramente onorato di ospitarlo e di ospitare questa conferenza con tantissime persone qua e nella sala vicino, quindi vuol dire che in fondo facciamo degli ottimi progetti per tutti voi. Grazie. Invito il Sindaco di Genova, Marco Bucci, per favore. A warm and a strong welcome to Oran Pamuk, from the city of Genoa. We appreciate your tie, as I told you, you got the leg of the city of Genoa. Stavo dicendo che ha la bandiera della città di Genova sulla cravatta, quindi direi che questo è un ottimo segno di benvenuto alla nostra città. Sono veramente felice che la nostra sala e anche quella, maggior consiglio e minor consiglio, siano piene di genovesi che vogliono sentire questa, chiamiamola conferenza. Abbiamo nell'ambito della Genova, capitale del libro, come sapete, un grandissimo progetto a pagine spiegate, questo era il titolo, che ha vinto la capitale del libro per l'anno 23 e i primi mesi dell'anno 24. Siamo orgogliosi, siamo fieri e qui al Palazzo Ducale aver ospitato il Nobel Pamuk per noi è un segno di partecipazione a questo evento, è un segno della città di Genova di partecipazione a questo grande momento culturale che noi abbiamo ed è anche un segno che vuol dire che la nostra città si dà da fare, si tira sulle maniche ed è in grado di organizzare cose di questo tipo. Io non sono un esperto per cui lascio a tutti quelli che verranno dopo i commenti importanti sulla serata. Voglio solo dirvi che ho apprezzato il fatto che ci siano le città come punto importante di questo tipo di letteratura, ho molto apprezzato che ci siano città che ovviamente, come sapete anche tutti voi, meglio di me, sono state posti dove c'era la città di Genova, la città di Genova ha messo famiglie, ha messo costruzioni, ha messo cose importanti che tuttora sono ancora ancora erette, ancora vive, che fanno parte della nostra cultura. C'è un pezzo della nostra cultura, della nostra città, di quello che eravamo nei secoli passati, nelle città che vengono descritte e io vorrei dire ci sarà anche un pezzo in futuro perché noi vogliamo essere una città multiculturale, vogliamo essere una città che è in grado di lasciare dei segni, vogliamo essere una città che ospita tante culture, tante persone di mare, tanta gente che viene da noi per traffici, per logistica, eccetera, ma vogliamo anche fare in modo che si ricordino la nostra città e la nostra città venga a essere parte anche della letteratura. Questo è uno dei grandi messaggi, non è l'unico, ma uno dei grandi messaggi che vogliamo lanciare nel nostro anno di capitale del libro e ospitando persone che hanno fatto delle loro città anche una parte importante della loro esposizione letteraria e quindi della cultura che è arrivata a prendere i premi Nobel. Ci sono tantissime altre cose, non è il mio compito sottolinearle. Voglio solo dire che ci saranno anche tanti altri autori, come sapete, il programma va avanti ovviamente, e tanti altri modi e tante altre occasioni per rivedere queste cose e far vedere come noi qui a Genova, su tante cose, possiamo dire che non siamo secondi a nessuno. Grazie a voi per essere qui e buona serata a tutti. Bene, buonasera. L'altra settimana, mentre stavo prendendo il traghetto che da Besiktas, quindi dalla parte europea di Istanbul, porta la gente, i lavoratori, i turisti dalla parte asiatica, squilla improvvisamente il mio telefono ed è Orhan Pamuk, il quale mi chiede della tappa di Genova e mi chiede espressamente di fare una visita turistica, turistica di livello particolare perché come abbiamo fatto nella giornata di oggi abbiamo visto i maggiori musei della città a partire dalla Fondazione Bruschettini, dal Palazzo Reale e poi nel pomeriggio Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, l'amato Museo Chiossone e naturalmente Palazzo Ducale, proseguiremo poi dopo la serata a vedere la mostra di Artemisia Gentileschi e quella telefonata si è conclusa esattamente dieci minuti dopo mentre stavo scendendo dal traghetto nella parte di Yuskidar, quindi parte asiatica della metropoli sul Bosporo e mi è sembrato davvero un simbolo di quello che sarebbe stato l'incontro di oggi, cioè il grande narratore di Istanbul che ti traghetta da una parte all'altra della sua città, una città che per me è una grande capitale mondiale, una città che oggi è composta da 26 milioni di abitanti sulle due parti. E non ho potuto non pensare oggi, visitando con Pamucchi tanti bellissimi palazzi di Genova, a una costruzione che un genovese ha inaugurato soltanto pochi mesi fa, il modern art a Istanbul, lo scorso maggio, fatto da Renzo Piano. E a quel punto ho pensato anche al nostro waterfront, perché Piano sta pensando di costruire lo stesso tipo di costruzione sullo stesso modello nella parte che sappiamo davanti alla foce. Quella zona, che tra l'altro proprio sotto casa di Orhan Pamuk, è una zona nuova dove sorge il modern art e si chiama Galata Port, quindi pensiamo a quante reminiscenze ci sono fra Genova e Istanbul. Ora, qui noi ci troviamo di fronte a uno dei più grandi scrittori contemporanei, e quindi a me fa particolarmente piacere riportarlo nella mia, nella nostra città, dopo 12 anni, dopo la bella visita che abbiamo fatto nel 2011, in cui c'è un piccolo aneddoto che però dimostra tutto Pamuk. Nel momento in cui stavamo passeggiando verso Piazza Banchi e c'erano appunto tutte le bancarelle dei libri, lui a un certo punto vede che mi stavo incuriosendo su alcuni volumi che riguardavano Genova, illustrati soprattutto, ne prende tre o quattro, pensando che io potessi magari un giorno interessarmi, scrivere, leggere. Me li mette in braccio e soprattutto mi regala una lezione importantissima che credo non dimenticherò mai, e mi dice ricordati che i libri si fanno con i libri, i libri si fanno con i libri. E questo noi, leggendo l'opera intera di Orhan Pamuk, lo capiamo benissimo nella costruzione con cui sono fatti. Allora, ognuno di noi, credo, ha un libro amato di Orhan Pamuk. Io ne voglio citare per presentarlo a chi non conoscesse la sua opera intera, tre. Capirete adesso le ragioni per cui li nomino. Il primo è il Museo dell'Innocenza. Il Museo dell'Innocenza è non soltanto un grande romanzo sull'amore, ma è diventato un museo vero e proprio, un museo che Pamuk ha costruito a Istanbul, proprio davanti alla via che si apre davanti al Consolato Generale d'Italia. Oggi è diventato una meta turistica di Istanbul, ci sono i cartelli ovunque, ed è stata una grande opera, una grande fatica. Questo lo capiamo anche dalla lettura di questo nuovo libro di cui parleremo questa sera. Il secondo libro è Neve. Neve che è sicuramente il libro dichiaratamente più politico di Orhan Pamuk. Il libro più amato in Italia, che parla di un confine gelato, anzi congelato, in quella zona al confrine fra Turchia e Armenia, è una città magnifica e misteriosa come quella di Kars. E il terzo libro è ovviamente Istanbul, il libro che nel 2006 gli ha dato il premio Nobel, la propria autobiografia e la biografia della sua città. Quindi un grande affresco sulla metropoli e che è stato premiato. A me piace leggere la motivazione che gli accademici di Stoccolma hanno voluto dare. È stato un momento molto emozionante quello. Ve leggo proprio la motivazione. Perché nel ricercare l'anima malinconica della sua città natale, Pamuk ha scoperto nuovi simboli per rappresentare scontri e legami fra diverse culture. Pamuk è stato capace di descrivere Istanbul come Dostoyevsky a San Pietroburgo, come Joyce a Dublino o come Proust a Parigi. Allora, credo che abbiamo capito che leggere i romanzi di Orhan Pamuk non solo ci aiutano a capire la Turchia di ieri, quella di oggi e prefigurare quella di domani, ma realmente a comprendere il mondo che stiamo attraversando. Ora, dopo ovviamente ascolteremo la voce del premio Nobel, ma naturalmente voglio presentarvi chi è accanto a me a dialogare con lui, che è Andrea Canobbio, traduttore, scrittore, perché ha vinto il premio Grinzane Cavour per esordienti e poi il premio Mondello. Oggi è nella cinquina del premio Strega, con il suo romanzo autobiografico La Traversata Notturna, ma soprattutto Andrea Canobbio è l'editor di Orhan Pamuk, cioè è la persona che alla casa editrice Einaudi, che ringrazio tra l'altro per aver contribuito a portare Orhan Pamuk qui a Genova, gli cura tutti i suoi libri, i suoi testi, i suoi romanzi. Gli lascio la parola, non prima di non avere ricordato un amico di Palazzo Ducale che è stato con noi per tante occasioni e anche altrove, che è Paolo Noseda, traduttore di lunghissimo corso, che a questo stesso tavolo, dodici anni fa, con Orhan Pamuk, era con noi. Quindi grazie e ascoltiamo il dialogo fra Andrea Canobbio e Orhan Pamuk. Buonasera a tutti, prima di iniziare a parlare di questo bellissimo libro vorrei chiedere a Orhan subito una cosa perché siamo stati poco fa a vedere la mostra veramente straordinaria qui a Palazzo Ducale di Calvino, e dato che so che Calvino è stato un autore molto importante per lui, che l'ha influenzato molto, volevo che ci dicesse qualcosa su Calvino. Grazie, proprio prima di venire qui, insieme, abbiamo visitato un'esercizionale Calvino. Tant'anni mi ha influenzato, sì, porremmo non le raccontate a nessuno. I make books with other people's books and I also made books influenced by Calvino. It was moving that how Italy celebrated one of its greatest, greatest writers. Also, he was a very, he has a lightness and a perfection that it's very hard to achieve. Maybe you translate it and continue. Ecco, vi ringrazio, vi saluto. È vero quello che dice Andrea. Prima di entrare qui in questa sala, da basso, abbiamo visitato questa splendida mostra del nostro autore Calvino, autore che mi ha influenzato, e sì, vi prego, non lo dite a nessuno. È vero, i libri si fanno con i libri e l'influenza che io ho avuto da Calvino è stata davvero grande. E per me è stato davvero commovente sapere che l'Italia ha pagato un tributo così grande con questa mostra a un grandissimo scrittore che io continuo a leggere e dal quale mi faccio continuamente ispirare. This is not a Calvino night. Calvino did so many new things, enriched in the ways we saw literature, change the art of the novel. But I want to mention one thing that I learned, which I consider most important from Calvino, and this is, I also teach in my classes, that he changed the historical novel radically. What do I mean by that is after this translation. Noi giochiamo sempre tra lui che parla e io che traduco. È un gioco fra di noi. Calvino è stato un autore che ha introdotto moltissime cose nuove. Il suo sguardo sulla letteratura ha davvero cambiato il vero e proprio cuore del romanzo. C'è una cosa che io ritengo particolarmente importante ed è una cosa che io dico sempre quando insegno ai miei studenti e vi spiegherò dopo il perché vi dico questo. Calvino ha radicalmente cambiato il romanzo storico. Calvino, a historical novel, was a business of realism and research. We all know, you all know better than me, Manzoni, in order to write the betrothed story that took place around 655 Milano plague and all that, he researched and researched. He researched. He wrote his book and he wrote almost a long essay how he researched for his book, searching for documents, sources. and he was, and this is a great book, the betrothed is based on reality. He assures us that it's based on reality. And it is, perhaps, the betrothed is the war and peace of Italy. It's a national big epic written by the major, perhaps the greatest national writer. Calvino changed all that paradigm with his three, three novels, The Baron in the Trees in English, The Cloven Viscount and the, and the third one, The Invisible Viscount, he invented fantastic historical novel. A historical novel that is not based on research and reality. Not that he did not know about these periods. He did his research, but he wrote his historical novels based on his imagination and they work. Suddenly, the paradigma, the problematics, the focus of the historical novel is not, does he get the details right? Do we have this kind of windows? Do people have this kind of paper? Or do they eat this lentil or this lentil in history? He had changed that completely and invented a convincing discourse about thinking about history through fantasy. This I owe him a lot. Umberto Eco owes him a lot. A lot of writers owe him a lot because suddenly the realistic history book, historical novel is changed. Not that we drop the value of realism, but we also found, find something with history combined with fantasy. So many writers learn so much from Calvino. This is one of the major things me and many other writers learned from him. Ebbene, ritornando all'importanza del romanzo storico, ecco, Io credo proprio che lui abbia cambiato l'impostazione del romanzo storico che era basato sulla ricerca, ovviamente. E questo appare chiarissimo nel lavoro che ha fatto Alessandro Manzoni con il suo capolavoro I Promessi Sposi. Promessi Sposi ambientati nel 1655 dove a lui servì una ricerca profondissima e dettagliata al punto tale che Manzoni stesso scrisse un saggio sui suoi sforzi di ricerca per poter avere tutta la documentazione e per poter avere tutto il materiale per descrivere I Promessi Sposi che è un romanzo storico basato sulla realtà. Possiamo definire I Promessi Sposi il guerra e pace italiano, della letteratura italiana, dell'epica nazionale italiana, la più grande opera epica che sia stata mai scritta. Ma per tornare a Calvino e tornare ai suoi tre libri sul Barone, sul Visconte, visibile, invisibile, insomma, cioè i suoi tre capolavori, ecco, lui è riuscito a far fare un passo avanti verso la fantasia al romanzo storico, nel senso che non è che abbia condotto una ricerca, non è che si sia dimenticato della ricerca dettagliata e del realismo che c'è bisogno di sapere per scrivere ed ambientare un romanzo storico, ma lo ha fatto in un altro modo, lo ha fatto generalmente. una serie di dettagli che non erano più la descrizione del tipo di carta usata da un certo personaggio o se mangiava una lenticchia di un certo tipo o una lenticchia di un altro, ma è una combinazione di invenzione, scoperta e mistero. e quindi c'è questa fantasia che rientra dentro la storia e io da scrittore devo molto a questo lavoro di Calvino, come pure gli deve molto Umberto Eco, ma come gli devono molto anche altri scrittori, perché è riuscito a combinare, ripeto, il realismo del romanzo storico, dando un valore pregnante al realismo, ma mischiandolo con la fantasia. E questa è la cosa più importante che io ho imparato come lezione da Calvino. Ok, grazie. Sì, io trovo che Pamuk ha imparato da Calvino anche una delle caratteristiche di Calvino, che era quella di reinventarsi continuamente, di non ripetersi mai, di cercare sempre nuove sfide. Oran, non se lo ricorderà, ma molti anni fa noi abbiamo fatto una conversazione a Pietrasanta su un libro molto particolare che Oran ha pubblicato, che si chiama L'innocenza degli oggetti, che è la descrizione del museo dell'innocenza, la descrizione del museo che Oran ha costruito a Istanbul e che è legato al suo romanzo, il museo dell'innocenza. Questo libro, questo di cui parliamo stasera, Ricordi di montagne lontane, in realtà è molto legato al museo dell'innocenza. Insieme, secondo me, rappresentano l'opera che ormai non possiamo più definire secondaria di Pamuk come artista visivo. Lui dà una descrizione, proprio all'inizio del libro, dà una descrizione, direi, perfetta di quello che è successo con questi tacquini che sono riprodotti in questo libro. Ecco che cosa va detto. Tra i sette e i ventidue anni ho creduto che sarei stato pittore. A ventidue anni il pittore in me è morto e ho cominciato a scrivere romanzi. Nel 2008 sono entrato in un negozio per uscirne con due sacchetti pieni di matite e pennelli. Poi ho cominciato a disegnare su piccoli tacquini, fra il piacere e il timore. Sì, il pittore in me non era morto, ma aveva paura ed era molto timido. Disegnavo su tacquini perché nessuno vedesse le mie opere. Mi sentivo addirittura un po' colpevole. Era la prova che le parole non bastavano. A parte la bellezza anche dei testi che Oran scrive nei tacquini, è evidente che i tacquini nascono proprio dall'intreccio tra testo e immagine. E io vorrei che Oran ci parlasse un po' di questa rivelazione che è stata per lui appunto nel 2008. Adesso sono passati molti anni e Oran adesso non so se può farci vedere, ma dovrebbe avere in tasca il tacquino. Grazie per averlo detto, si stilta qui, non ce l'ha. Since I am also a professor, visual teaching is the easiest and fastest, so I pull out my gun and it is a notebook. Ecco, visto che sono anche un professore e naturalmente l'insegnamento delle discipline visive oggi fa sì che l'insegnamento sia più semplice e più veloce. Ecco, adesso estrago la mia arma e ve la mostro. Ancora, magari just to sum it up, I come from a family of civil engineers, till the age of 22, I thought I will be a architect and a painter. I was also destined to be a civil engineer, but now that I'm painting all the time, everyone said this one, okay, goes to the same engineering school, but becomes now that he's artsy, a painter. In fact, I enrolled into the Istanbul Technical University, my grandfather, my father, my uncle's band. Then I began studying architecture and as I wrote in my book Istanbul, suddenly a screw is loose in my head and I dropped out of architectural school and decided to be a novelist and at the same time I thought I killed the painter in me. Ebbene, come dicevo, vi devo confessare che io, insomma, dall'età dei sette ai 22 anni, dipingevo, però vengo da una famiglia che mi aveva destinato, perché erano tutti ingegneri civili, a diventare o architetto o anche forse pittore. Però il destino era quello dell'ingegneria. Ma diciamo che io sono riuscito a trovare delle analogie tra l'essere ingegnere e l'essere pittore. Mi mandarono, mio malgrado, all'università, al Politecnico di Istanbul, l'aveva frequentato mio padre, l'aveva frequentato mio nonno, tutti i miei zii avevano frequentato il Politecnico, e allora io cominciai a studiare architettura. Cominciai a studiare architettura finché iniziai a scrivere il mio libro, il mio libro Istanbul. E lì mi sono svitato. Ho perso una vita in testa e ho pensato di mollare l'architettura e di mollare l'ingegneria e di cominciare a scrivere romanzi. E ecco perché dico che è morto l'ingegnere dentro di me, il pittore dentro di me, ovviamente. After 20 years of writing novels, I realized that the painter is not dead at all, and just as Andrea pointed out, one day that I went into a stationery and came out happily like a child holding chocolates and sweets in his hand, went home and began doing painting. But socially, I am now a famous novelist. I cannot go out saying, I did a painting, would you look at that, it would be embarrassing. So I did painting inside notebooks, not showing inside. But also, I was happy doing painting, and I was happy having a notebook like this in which I wrote ideas, images, things that I carry around. Carrying this notebook with me, I write little details, sometimes pictures, sometimes my daily life, sometimes a complete picture. It felt as if I'm carrying my work table with me because I'm continuously dialoguing, have a dialogue, write, something happens. I write, I think, I'll write it. At one point, I realized that probably this would not be a private journal, but we will come to that subject maybe after this, after he translates, he translates so well. Thank you. Come dicevo, appunto, dopo vent'anni di romanzi, di scrittura, mi sono proprio accorto che questo pittore non era morto dentro di me. e come giustamente Andrea ha appena detto, un bel giorno ho deciso di entrare in una cartoleria e sono uscito da questa cartoleria con le mani piene di colori, di pastelli, sembravo un bambino a cui siano state regalati cioccolatini e caramelle e avevo lo stesso tipo di felicità. avevo iniziato a dipingere, ma a quel punto, dal punto di vista così di come mi vede la società, ero un romanziere famoso e allora mettermi a dipingere delle tele mi sembrava una cosa imbarazzante, allora ho cominciato a disegnare, a fare dei piccoli schizzi che mi rendevano felice in questi libricini, in questi piccoli notes, dove io ho sempre usato mettere nero su bianco le mie idee, talvolta colorarle con delle immagini, insomma sono tutta una serie di cose che io porto con me, sono quelli che io chiamo i piccoli particolari del mio quotidiano, sono come delle fotografie, sono la mia quotidianità, anche i piccoli conflitti, è come se io viaggiassi con la mia scrivania costantemente. E con questo mio libretto, io ci parlo, ci dialogo, ci scrivo, perché mentre scrivo penso. E prima di continuare a parlarvi del perché, cioè questo senso di privatezza in me, lascio che venga fatta la traduzione. Maybe just, before Andrea's second question, I'll just give you a brief history of keeping a journal. And also humanity had kept journals forever, that most of the time what we today call journal is about something secret. We bury a treasure someplace and write to a paper. I buried the treasure, here is the map, here is how do I go. We write about the codes, today I woke up, we write, take notes about ourselves, perhaps because to measure our health is improving, this is happening, very private things. Journals are about our private life, and journal is something that should be kept. In fact, in my childhood, a publisher sold journals, I'm sure it's copied from Europe, where there is a lock. You have a key, you write into your journal and you lock it. It's a private thing, it is your innermost thoughts. You say, I disagree, I don't like my flag, my father is a bad person, I hate my mother, I don't like my nation, so forth and so on. You write them and hide it and lock it, and political ideas, private ideas, visions, journals were meant to be kept secret, codes, secret things, where you bury this, what you want, your secret thoughts. Since, till in 1920s, the French writer André Gide began. He began to publish, probably publicly, his journal. Suddenly, the idea of keeping journal, suddenly, radically changed. Then, then he continued to keep a journal with the idea of publishing it, which changed the idea of keeping a journal, because after him, a writer cannot keep a journal, and say, no, 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 I just burned them after me, no one will believe you. And not only that, writers like Peter Hanke, Max Frisch, many others invented the experimental journal. Now, there is a voice, not necessarily the writer's voice, and or the writer is paying attention to to some details. Suddenly, the form of the journal turned out to be just like novels, poetry, an experimental or inventive space. Not only that the writer is talking to himself or talk, or hiding his truth so that he won't. It's not a memory book anymore. It's a public space where you can, with the, with the, with the pretext of keeping a journal, do a bit experimentation. After André Gide, many, many writers did something new, experimented. In fact, my little contribution to keeping a journal when you're alive and publishing it is, my journal is with pictures, and yes, just like André Gide, first published by French publisher Gallimard. Ebbene, adesso vi dico una cosa. Come giustamente diceva André prima, e prima di rispondere alla sua domanda originaria, voglio tracciare qualche linea storica del diario. L'umanità da sempre ha scritto diari, e da sempre i diari che gli uomini hanno scritto sono stati considerati una cosa segreta. Cioè, tu hai un piccolo tesoro, lo nascondi scavando un buco nel giardino, cosa fai per ricordartelo? Lo scrivi sul tuo diario. Quindi scriviamo continuamente tutta una serie di cose che sono il nostro codice. Non per nulla si inventano i codici segreti. Oppure teniamo un diario perché abbiamo dei problemi di salute e vogliamo controllare come stiamo con il passare del tempo. Insomma, il diario è una fonte di notizie del nostro privato. I diari sono sempre stati una testimonianza della nostra vita privata e quotidiana. però il diario si è sempre tenuto, si è sempre tenuto e mai pubblicato. In Europa, non per nulla, si vendevano delle edizioni con un piccolo lucchetto e quindi tu chiudevi i tuoi pensieri a chiave. e in questi diari magari scrivevi quanto schifosa fosse la bandiera del tuo paese, quanto disgraziato fosse tuo padre, quanto odiavi in un certo momento tua madre, quanto la tua nazione ti potesse fare schifo. Insomma, delle cose, sia private che pubbliche, che non avresti mai voluto che diventassero di dominio pubblico. non per nulla si parla di diari segreti, non per nulla il diario è quel luogo dove tu scrivi le cose che hai sepolto della tua vita e che non vorresti mai venissero divulgati, cioè i tuoi pensieri segreti, fino a una data fatidica, il 1920, quando André Gide pubblica per la prima volta il suo diario e lì cambia completamente la visione del diario, cambia completamente la stessa idea, una cosa privata e segreta che diventa di pubblico dominio. È così che cambia, è lui che fa cambiare questa nuova visione del diario. Il diario non è più una cosa che lo scrittore ha diritto di dire bruciatelo dopo la mia morte, ma diventa un esercizio pubblico, su uno spazio pubblico. Dopo di lui Hanke, Frisch, per esempio, fanno tutta una sperimentazione sulla scrittura del diario in forma di romanzo e quindi danno una nuova voce che non è necessariamente più solo quella dello scrittore, ma danno una nuova forma al diario sotto forma di romanzo, sotto forma di poesia, cioè trasformano il diario in uno spazio di invenzione, in uno spazio di sperimentazione, dove non è più semplicemente il libro dei nostri ricordi, il libro della nostra memoria, ma diventa la descrizione di uno spazio pubblico, un pretesto per scrivere una cosa che appunto è venuto in uso dopo Andrei Gide è stato da altri. E il mio piccolo contributo, se volete, a questo cambiamento della visione di cos'è un diario è il fatto che io, nei miei tacuini, abbia anche disegnato una serie di cose e che sia stato pubblicato da Gallimard in prima battuta, che è stata anche la casa editrice di Andrei Gide. Allora, in questo libro, che come appunto avete capito, riproduce le pagine reali del tacuini di Pamuk, intorno poi c'è il testo, c'è la traduzione del testo, delle parole scritte da Pamuk sul tacuino. In questo libro direi che una delle parole chiave è sicuramente quella felicità. Lui stesso, Pamuk stesso, in una di queste pagine, tra l'altro una pagina in cui disegna il minaretto che sta davanti a casa sua, della moschea che sta davanti a casa sua, è anche un pezzo della poltrona, dice la poltrona ereditata da mio padre. In fondo la pagina scrive, uso continuamente la parola felicità, perché la voglia di scrivere su questo tacuino è istantanea, non appena questa sensazione si impossessa di me. Emozioni, vertigine, eccitazione, ottimismo e desiderio di scrivere e disegnare. Ecco che cosa intendo per felicità. E devo dire che una delle cose più belle di questo libro è che non tutti gli scrittori sono felici da quello che si legge appunto nei loro diari nel momento della creazione. Pamuk poi naturalmente racconta anche dei dubbi, delle incertezze che ha, però il sentimento della felicità. Felicità è molto importante ed è direi contagioso per il lettore. Pamuk lo riesce a trasmettere benissimo. E però c'è il lato invece più in ombra della felicità che parte fin dal titolo, Ricordi di montagne lontane. Io vorrei che Oran ci parlasse un po' di questa idea che ricorre in molte delle pagine dei tacuini e che è un'immagine, evidentemente un'immagine tra l'onirico e il fantastico, ma è un'immagine... ci sono tantissimi luoghi reali e importanti, no? Ci sono tutti i viaggi di Oran in India, in Italia, negli Stati Uniti. Però poi ci sono... ritorna spesso questa immagine delle montagne lontane. E vorrei che Oran ci parlasse un po' di questa immagine. Ok, ma prima comincerò con l'happiness. Ok? I am not as a happy person or a happy writer as this notebook suggests. Ok. That I am, perhaps, like many writers, have manic and depressive moods, not as much as Van Gogh, non very. But, yes, I have troubles. But the interesting thing is that, that when I am in a dark, that mood that you reconsidered as dark, the joy of writing stops. I don't even write when I am in a bad depressive mood, and I am frequently like that, then I don't want to write, and there is nothing to write into the notebook. and I am angry after, of course, it's my moods like many writers, many people. Then I go up, then I come down. When you go up, you just fill the buckets with water or art or writing. Then when you fall down, you wait or you struggle. I always say to myself, I have to do a lot of writing, and I am in a bad mood, and that writing may be beautiful. I have many notebooks like this, 30. I have already decided about the second, third, fourth selection. One of the selections would be, in English, in Turkish, yangınlar ve öteki öfkeler, in English, fires and other theories. In that selection, you would see my anger. But, you know, this book is not a chronological combination selection. It's a thematic selection. So, please don't get me right. I also sometimes consider myself, compared to other writers, a happy writer. But, no, especially to this notebook, I write when I am. Especially to this selection, I write when I'm happy. Happiness for me is also related to painting. Maybe I stop and we translate, because I continue to answer, cover your question. Happiness and painting, I will come to that. Allora, in prima battuta, prima di rispondere alla tua domanda, voglio parlare della felicità. Allora, io non sono quello scrittore felice, come potrebbe suggerire la lettura dei miei diari che sono pubblicati in questo libro. Io, certe volte, spesso e volentieri, divento anche parecchio maniaco depressivo. Ecco, forse non lo si evince da qui, dalla lettura di questo libro, ma, insomma, i problemi ce li ho anch'io, come ce li hanno anche gli altri scrittori. E, giustamente, tu hai parlato della parte un pochino più in ombra, no? Del mio modo di essere. Eh sì, a un certo momento la gioia finisce. Cioè, arriva la perplessità. C'è lo spazio di scrittura della perplessità dove io, a un certo momento, mi dico non voglio più scrivere e non ho più niente da scrivere sui nietti aquini. E la cosa mi fa profondamente arrabbiare. E allora comincia uno stato d'animo che è un po' come un ottovolante, una sinusoide, va su, va giù, e non capisco più se questo secchio che ho davanti lo riempio di acqua, lo riempio d'arte, lo riempio di scrittura. Insomma, è come se io continuamente cadessi e continuassi a rialzarmi. E allora mi dico, devo scrivere, devo scrivere anche se sono in un brutto momento e non mi sento troppo bene, perché magari le cose che scrivo alla fine saltano fuori che sono meravigliose. E allora cosa ho fatto? Ho fatto una prima scelta, una seconda scelta, una terza scelta, una quarta scelta, un po' di roba era scritta in inglese, un po' di roba era scritta in turco, parlo del fuoco, parlo della furia, parlo di questo, parlo dell'altro, parlo di quando sono anche molto arrabbiato. Cioè, ho scelto. Cosa intendo dire? Questo libro non è un libro cronologico, ma non è un libro tematico. La scelta che ho fatto riguarda dei temi. E per favore, appunto, non consideratemi semplicemente uno scrittore felice. Sono semplicemente uno scrittore che ha scelto dei brani felici da mettere dentro un libro. E anche c'è una stretta correlazione fra la scelta che ho fatto e il mio modo di dipingere. E adesso ne parleremo. A few more words about happiness, painting and writing. I consider myself both a painter and a writer. Socially, I am more a writer. And in the last 50 years of my life, I gave more time, more time to writing, less time to painting. But when I paint, my mood is like that of a person, a man who is taking a shower and singing. He is so happy. He is just singing. It may be a bad song, but he is happy with himself, with what he is doing. When I'm writing, first of all, I don't listen to music when I'm writing. No music. It's all silence. And I am more cerebral. I am busy with thoughts and I am manoeuvring, thinking. It's not as happy as singing. I'm not as happy as when I am painting. But the end result, I look at my writings and I find them to be more executed, more work carrying, more work. And inspiration perhaps is there, but it is overworked. It is enriched. It is carried. While my painting, my drawing, is more spontaneous. It's more bodily. The sense that I wrote in my book, My Name Is Red, that the feeling that it's not me, but my hand is doing this painting. I am possessed by another force who is doing the painting. I am an instrument of that other world who is doing the painting and that perhaps makes me happier. When I write, I am sure I am writing. When I paint, it feels as if my body is doing the painting. And I also like the bodily body, hand activity of the painter. Sometimes it seems your eyes, your intellect with amazement watches what your hand is doing. I wrote up since I painted also in my childhood. I know this feeling and describe this feeling in My Name Is Red. I like both moods. Sometimes I write, write, write a whole day. I am happy with my writing and I say, now I want to paint. And I also paint. These are different attitudes, different moods. Then, when I write beautifully, convinced, I am very manic. I am convinced of my powers and inventiveness, my creativity. I am happy with myself and very happy when I'm writing well. The same with painting. When I'm frustrated, I can live. This manic and depressive moods also covers painting. But in the end, social life made me more a writer. The painting comes now. I sometimes say to my friends, I am getting out of the closet as a painter. Ebbene, io devo dire, quando dipingo e anche quando scrivo, la mia sensazione è proprio quella della felicità in entrambi i casi. però, dal punto di vista così della generalità di come mi considerano in generale le persone, le persone mi guardano e pensano di me che io sia uno scrittore. Di fatto, gli ultimi cinquant'anni della mia vita io l'ho dedicato in maggior parte alla scrittura rispetto alla pittura. E quindi, però, io quando dipingo, vi devo confessare una cosa, mi sento come il classico uomo sotto la doccia che canta bello e felice anche se è stonato, è comunque felice di se stesso. Ecco, questo è il sentimento che io provo quando dipingo. Quando scrivo, invece, io voglio il silenzio. Nessuna musica è un esercizio il mio completamente cerebrale che mi tiene assolutamente occupato, è un'occupazione profonda del mio pensiero. Allora, non c'è più quella felicità di quello che canta, di quello che dipinge dell'uomo sotto la doccia, ma è, però, alla fine, anche l'esercizio della scrittura, il risultato finale, mi fa sentire compiuto, mi fa sentire che il mio lavoro, grazie all'ispirazione, si arricchisce anche scrivendo. E io considero proprio l'esercizio della pittura come un esercizio spontaneo e come quando uno pronuncia il proprio nome e ha questa sensazione che mentre dipinge dice ma sei proprio tu che stai facendo questa cosa perché la tua mano sembra guidata da un'altra forza. La tua mano diventa lo strumento di un mondo altro e ti senti anche felice per questa cosa che ti genera anche un pochino di insicurezza. Mentre invece io, quando scrivo, sono sicuro di quello che faccio. in più, quando dipingo, io dipingo con tutto il corpo e questa azione corporea, questa azione della mia mano, io proprio la sento e non è una cosa che ha a che vedere con ciò che si vede o con l'intelligenza o con l'intelletto. È una sensazione di sorpresa che provo tutte le volte a vedere quello che fa la mia mano. È una cosa che risale addirittura a questa sensazione alla mia infanzia e questa cosa l'ho anche descritta nel mio romanzo rosso. E quando scrivo, io certo che sono felice, ora posso dirlo perché quando scrivo cambio modo di fare, cambio impostazione, cambio anche umore. Quando scrivo mi sento bene, quando penso di avere scritto qualche cosa di bello, mi sento forte, sento la mia creatività e quindi provo la felicità anche in quel momento. E lì questa felicità dello scrivere diventa la stessa felicità che provo quando dipingo, così come la frustrazione dello scrivere diventa la stessa frustrazione di quando mi stanco di dipingere. Però, insomma, sono più uno scrittore che un pittore agli occhi di tutti. Allora posso concludere dicendo che anch'io esco fuori da questo armadio e mi svelo per quello che sono, cioè un pittore. Un'altra cosa è una cosa di distante montagne. di distante montagne. di distante montagne. di distante montagne. Un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa della montagna. di distante montagne, la valia di pittà di pittà di pittà di pittà controllo che ci sono la sensazione che si chino chino che sono anche pittà ho believe in this too much, that it used to be painting and writing were the same extension of the same sensibility and Chinese knew this. One of the, if I do manage to produce another book like Fires and Theories, one title that I plan for this kind of series is, a title would be Chinese had thought of this before and I want to put together my landscape, landscape, I already have here a lot and thinking about landscape. Ebbene, parliamo adesso del concetto delle montagne, delle montagne in distanza, delle montagne in lontananza. Ecco, io sono sempre stato un grande studioso e ho anche sempre molto apprezzato la pittura cinese. Ho tutta una serie di libri di testo, di manuali anche tecnici e in effetti il concetto della montagna vista in distanza è quasi una parola tecnica dell'arte pittorica e dell'arte del dipingere il paesaggio cinese. Perché i cinesi considerano il dipingere la montagna, il dipingere per esempio le condizioni atmosferiche o l'acqua, come soggette a tutta una serie di regole pittoriche. Quindi in Cina c'è uno stile, c'è una certa tecnica, c'è un certo numero di regole che appunto presiedono a questo modo di ritrarre i paesaggi. E quindi io ho letto molti libri sui paesaggi pittorici e il valore del paesaggio pittorico si basa proprio sulla possibilità attraverso una descrizione pittorica del paesaggio di suscitare in noi dei sentimenti. E i cinesi questo lo sanno bene, gli artisti cinesi, i pittori cinesi questo lo sanno bene e a volte arricchiscono le loro opere anche con la poesia. La poesia è di solito a commento dell'immagine pittorica, può essere più o meno romantica, insomma può essere più o meno profonda. Ma questo dimostra ancora una volta che c'è una strettissima correlazione fra la pittura e la scrittura, perché la scrittura è un'estensione del discorso pittorico e quindi presuppone avere una certa uguale sensibilità. I cinesi questa cosa la sanno. E se devo abbracciare l'idea di così fare un nuovo progetto di scrittura, ho già pensato anche il titolo. Il titolo di questa serie di libri che potrebbero essere anche una descrizione di queste tecniche pittoriche è che i cinesi ci avevano pensato prima. Allora queste parole di Pamuk su questa polarità spontaneo artificiale o artificioso tra ingenuo e invece studiato. E richiamano evidentemente le sue lezioni americane, le lezioni, le Norton Lecture che Pamuk ha fatto a Harvard, che partivano dal testo di Schiller, Poeti ingenui e sentimentali, dove appunto la polarità era tra l'artista classico che non ha bisogno di costruire le sue opere perché appunto l'arte gli viene spontanea, il gesto gli viene spontaneo, mentre invece l'artista moderno che provando una specie di nostalgia per la classicità però è più consapevole dei propri mezzi, consapevole dell'artificio che deve usare per scrivere. Volevo leggervi ancora un pezzettino e poi farlo commentare da Oran perché di nuovo tra l'altro spiega anche bene come Oran lavora sui tacquini. Qua per esempio c'è di nuovo una vista del Bosforo e poi Pamuk successivamente è intervenuto scrivendo sopra il disegno che ha fatto, l'acquerello che ha fatto e ha scritto questo vedevo stamattina bevendo il caffè in terrazza, ho subito preso i colori per fissarne l'immagine, fatto straordinario perché raramente disegno al mattino. Le immagini permettono di fissare nella memoria il tempo, a ogni secondo un disegno, qualche riga di testo, era il primo momento della giornata, poi arriva il secondo e un secondo disegno. Si procede così, vivere e vedere. A ogni momento il suo disegno, messi uno accanto all'altro ci offrono il racconto illustrato di una giornata, di un anno, di una vita. Una vita è l'inchiostro di una serie di disegni, curiosità per l'immagine che seguirà e perché è curioso della prossima immagine che l'uomo non vuole morire, con la morte le immagini scompaiono, comincia l'ombra, l'uomo vuole vedere sempre, ecco perché tutti i disegni sono belli. Già è un testo straordinario e ci incanta. Però qui viene fuori un'altra cosa, di nuovo una polarità, che è quella tra scrittori visivi e scrittori invece più di linguaggio. e volevo che Orange parlasse di queste due categorie. Allora, over mucho. Yes, we can make so many distinctions between writers or human beings. We say there are urban writers, there are pastoral writers, there are epic writers, there are poetic writers, there are so many divisions. A division I like, perhaps because I am preoccupied with drawing and painting, is this. that some writers are visual and some writers are verbal. What do you mean? All writers are verbal. Well, yes and no. This I partly explain in my Naive and Sentimental Writer book. That for me in order to understand my kind of writing we have to understand this. A writer, writing is writing a novel, reading a novel is this. A writer, maybe I stop, you translate and I continue. Ok. Allora, sì, ci sono tutta una serie di distinzioni che in genere si fanno quando si parla degli scrittori e quando si parla anche dell'umanità, di coloro che scrivono. Ci sono gli scrittori urbani, ci sono gli scrittori del passato, ci sono gli scrittori epici, ci sono gli scrittori poetici. Insomma, ci sono tutta una pletora di distinzioni che vengono fatte. Io amo disegnare e amo dipingere. Allora, è per questo che ho creato, diciamo, la categoria di quelli che sono gli scrittori visuali e gli scrittori orali, come li chiamo io, o verbali. E voi vi chiederete ma non sono tutti gli scrittori, gente che si occupa di parole? Sì e no, direi. E vi spiego perché. Perché ho deciso di spiegarlo in questo tacuino abbastanza ingenuo e abbastanza sentimentale che ho scritto. Ecco, per me era molto importante capire che cosa scrive lo scrittore in modo tale da capire poi che cosa legge il lettore di quello che ha scritto lo scrittore. Noi, per me, visual writers are, best visual writers are perhaps Proust, Tolstoi, Nabarco. Quando you read a chapter, a passage from these writers, you feel, you begin to see a picture in your visual imagination. The writer is focused, the description, the worlds are focused to evoke that picture in reader's mind. When you read a Tolstoi chapter, a scene, you see objects, you see the color, you see the light, you have a sense of space and color. This is important. You see, you have a picture like imagination of the scene. other kind of writer is the best example is Dostoevsky. You read Dostoevsky, it's as deep as perhaps deeper than these writers. There are no colors, no objects, no nothing. It's just two intense persons, verb. There are words, dialogues, drama, everything that you need to satisfy yourself. Reading a novel is there, you're deep in it, but you don't remember any colors, any objects, nothing in the room. Maybe you translate this, then I'll tell you just briefly about your question, about how to illustrate your question. I'll say something more. Okay. Ebbene, ecco perché io credo che parlando di come definire questa categoria di scrittori visuali, è meglio citare dei nomi piuttosto che dare una definizione che sarebbe troppo difficile da capire. Allora, per me, gli scrittori visuali sono Proust, sono Tolstoi, sono Nabokov. Perché? Perché vi fanno vedere un paesaggio quando scrivono. Perché quando voi leggete una delle loro pagine, voi davanti agli occhi avete proprio un'immagine, avete proprio una scena. Le parole evocano una scena direi quasi pittorica nella vostra mente e quindi la letteratura diventa visiva. Tolstoi, per esempio, quando descrive una scena, quando descrive un interno o un esterno, vi fa vedere gli oggetti, vi fa sentire la luce, ve la fa vedere, vi fa provare il senso della spazialità, vi fa sentire il cromatismo delle cose e ogni singola scena può essere tradotta in immagine. Mentre invece forse l'esempio migliore del contrario è Dostoevsky che è profondissimo, però è assolutamente privo di colori, ma è molto intenso. Però in Dostoevsky si sentono i verbi, si sente il dramma, si sente il dialogo, si sente il cambiamento di umore dentro i suoi romanzi e questo probabilmente ecco, anche se non vi fa vedere il colore nella stanza che lo scrittore descrive e non ve lo potete ricordare perché lui non lo cita, serve comunque molto e adesso spiego perché e andiamo avanti a rispondere alla domanda che aveva fatto Andrea. Here is a brief theory of how we write novels by a visual writer. First, the writer has a picture in his or her head. That is, X is approaching, they are sitting at a table and something is going to happen. So, he has this scene as a picture. At least, this is what's happening to me. So, it's a picture in my mind. So, I give a lot of effort to express, describe this picture in my head with words like as if I am describing a painting by someone else and I put what I see, what I have in my mind as an image into words. The aim is, of course, the reader also reads these words and he or she tries to evoke the picture I may have in my mind. That is, the optimism of the visual writer. The reading, writing of a book and reading of a book is a communication. It's an attempt to carry the picture in writer's mind into the mind of the reader. It's my modest theory of writing and reading a novel by a visual novelist. But, if you're not a visual novelist, if you do not believe this theory, then it falls apart. of a visual novelist, the theory on how a novel is written that I define as a visual novelist is the following. And I'll explain it. The first thing I try is the image that I have in my head. That's, I get an idea. I'm sitting at my table and I'll see you and I'll see you as a visual novelist. And I'll see you as a visual novelist. and I'll see you as a visual novelist. pittorico di qualcun altro. Cioè, prendo l'immagine e la riduco a parole. Certamente, ecco, questo che effetto ha sul lettore? Io mi auguro che abbia l'effetto di evocare la stessa immagine che ho io nella testa che quando viene letta in parole dal lettore ritorni nella mente del lettore così come l'ho avuta io. Questo è l'ottimismo dello scrittore visuale, diciamo. In effetti, se noi pensiamo alla scrittura, la scrittura è una forma di comunicazione, no? Quello che noi abbiamo nella mente, quello che lo scrittore ha nella mente, deve essere comunicato al lettore, alla mente del lettore. E questo è il romanzo visivo, cioè il prendere il solito romanzo, la solita idea e trasformarla in qualcos'altro. Questa è la mia teoria, poi se uno ce la fa bene, se non ce la fa non c'è più la teoria, ovviamente. Io mi ricollego all'ultima frase di Pamuk facendogli una domanda perché qua ci troviamo di fronte chiaramente a un libro diverso, non è un romanzo, non è una delle opere a cui il premio Nobel ci ha abituato, ma è un libro molto visivo in cui naturalmente c'è molto testo. Ora, la cosa che colpisce è vedere quante siano le immagini del Bosforo. Quindi qua mi ricollego al paese di Pamuk, alla città di Pamuk e sono immagini anche riprese dalla stessa posizione, ma sempre diverse, con colori completamente diversi. Allora, la mia domanda è intanto quanto è importante il balcone di casa Pamuk che abbiamo visto dall'esterno in decine e decine di fotografie che lo ritraggono oltretutto con la moschea dietro e con l'Asia dietro, quindi ripreso dall'Europa. E poi anche Pamuk cita molti quartieri anche attraversando in navigazione il Bosforo, quindi Bebek, Candilli, Besiktas, Ortaköi. La mia sensazione è che sia quasi, si comporti quasi come un turista, cioè che lui sia realmente una persona innamorata del Bosforo e di sta. Ok, first of all, I am a lucky privilege writer in that sense happy writer because I'm writing novels for the 50 years of this 40 I wrote my novels looking from a window to a beautiful landscape and this landscape most of the time is the landscape of Bosforus. I like it, I'm used to it, it's a privilege to have this and my hand automatically draws it that I sometimes draw it without knowing it's important for me it's good for a bad mood in my childhood as I wrote in my Istanbul autobiographical book when we were unhappy in the house my father used to say ok, ok let's get the car and go to Bosforus you go there and suddenly your mood changes I believe in the power of Bosforus to change my mood and I also I wouldn't say I believe but accustomed happy with looking at landscape this book is partly about what is the meaning of landscape for me landscape painting is the only painting that is not illustrative it's like music music also illustrates moods and sentiments and feelings most of history of painting is first there are words and stories then paintings illustrate them except the pure painting is landscape painting without any text it doesn't illustrate anything landscape painting is like music when it's itself purely itself it does not illustrate a text it only conveys a mood like music in that sense landscape is an important part of my life I am a lucky and happy person I spent all my life this is my 50th year of writing novels of this I spent 40 looking at landscape and when we travel with my wife we go to places sometimes two weeks in this place the first thing I think is there a landscape looking and it should be about looking at a place then when I'm writing I look at that it inspires me and I also get attached to these places I take photos of them I make paintings of them landscape this is a typical very general typical romantic idea of landscape I believe in it that it conveys a mood that mood whether it comes from reality or whether it's in my imagination is important for me and again the landscape painting is the only painting that is not illustrative that there is no text behind it it's a pure landscape and it is there to evoke a mood these things help me to survive write a book be happy in my daily life I hope my drawings also convey these problems these beautiful things that I find that I derive and get inspiration from less inspiration more mood change consolation perhaps landscape gives us consolation rather than inspiration some people look at the landscape and do not feel anything I understand that for me that it is it evokes my romantic imagination also controls makes my mood change landscape for me as you can see easily from this book or my interest in Chinese landscape painting or history of landscape painting I sometimes fancy writing a book called The History of Turkish Landscape Painting this is one of my modest themes I have so many ideas about and I also want to do one day an exhibition landscape painting but painters who wrote on landscapes there is a landscape painting there is also an inborn desire in me that I see a landscape painting I want to write over it I don't know why it's also another psychological problem but we should make it short ecco la prima cosa che posso dire è che ovviamente quando io scrivo mi sento privilegiato privilegiato perché? perché da 50 anni a questa parte anzi devo dire da 40 anni a questa parte io dalla finestra di casa mia sono così privilegiato da vedere un paesaggio che è davvero meraviglioso il bosforo signore e signori io lo amo e devo dire è per me un grande privilegio e sono molto conscio di essere privilegiato di questa cosa a volte addirittura la mia mano scorre sul mio tacuino inconsapevolmente e comincio a disegnare le cose che vedo improvvisamente il mio cattivo umore si trasforma in buon umore e quando nel mio libro Istanbul che è poi alla fine la mia biografia e la biografia della mia città io ero un bimbo infelice magari piangevo a casa il mio babbo mi diceva dai prendiamo la macchina andiamo sul bosforo andiamo a guardare il paesaggio del bosforo e il mio umore cambiava improvvisamente e allora io negli anni ho imparato a riconoscere questa forza che ha il bosforo che ti fa cambiare l'umore in meglio e ecco io mi sono abituato a questo cambiamento di umore in meglio ed ecco perché in questo libro c'è proprio una selezione di paesaggi perché secondo me la pittura come la musica quando è pura non deve essere illustrativa va bene ci possono essere parole ci possono essere storie le leggi le storie nelle parole nei dipinti che illustrano una certa scena una certa cosa ma quando un paesaggio è puro non ha bisogno di testo proprio così come la musica quando è pura è di per sé stessa un paesaggio quindi non ha bisogno di un testo e la musica come il paesaggio quando è puro ti cambia l'umore in meglio e quindi è il paesaggio che diciamo mi ha fatto sentire felice e fortunato del mio quotidiano perché ripeto da 50 anni scrivo ma da 40 riesco a guardare e ad apprezzare questo paesaggio che io ho davanti ai miei occhi e io e mia moglie quando viaggiamo ecco la prima cosa che io dico chiedo a lei sempre è ma c'è un paesaggio da guardare e quando trovo questo paesaggio da guardare io scrivo scrivo perché poi mi ci affeziono a questo paesaggio poi ritorno indietro faccio delle foto magari oppure faccio un piccolo dipinto insomma anche perché secondo me guardare un bel paesaggio ti evoca la tua parte romantica è un'idea romantica quella del paesaggio e quindi sviluppa in noi il nostro romanticismo e quindi io credo profondamente come dicevo prima che un bel paesaggio non solo ti cambia l'umore ma ti cambia lo stato d'animo l'immagine che puoi avere dentro di te delle cose che ti circondano e un bel paesaggio ripeto non è illustrativo ma evoca deve evocare uno stato d'animo per me è stato così e questa cosa mi ha permesso di sopravvivere di continuare a scrivere e di essere felice del mio quotidiano un libro certo deve ispirare però secondo me un bel paesaggio deve essere meno ispiratore e più consolatore cioè quando vedi un paesaggio non devi essere ispirato deve evocare dentro di te un'immagine romantica poi certo c'è il problema del controllo di come si cambia di come si cambia l'umore guardando una certa immagine e lì ritorniamo ai cinesi ritorniamo alla storia ritorniamo alla tecnica del paesaggio ecco una cosa che così nella mia immaginazione ho pensato di scrivere se mai la scriverò questo libro voglio mi spiacerebbe scrivere un libro intitolato la storia della pittura paesaggistica turca sono modesto a volere un titolo e a scrivere una cosa di questo genere però ecco è come se nella mia testa ci fosse una mostra una grande mostra di quello che fanno i pittori di quello che scrivono i pittori è come se io vedessi questo paesaggio come se fossi su un palco proprio davanti a una scena teatrale quando la materia prima è meravigliosa non si può sbagliare a tradurlo bene grazie a Paolo Noseda ovviamente noi siamo al termine di questo incontro di un'ora e mezza con Orhan Pamuk allora lo scrittore non farà un firma copie anche perché la nostra corsa a vedere i palazzi di Genova che dura da questa mattina deve proseguire però in ogni caso lui ha un regalo per noi per la città perché in una dei libri per gli ospiti dei nostri incontri delle nostre visite di questa mattina ha scritto questo piccolo racconto che vi traduco rapidamente 16 novembre 2023 sono tornato a Genova sono stato qui nel 1959 era estate quindi da qui capiamo che è la terza volta che Orhan Pamuk arriva in città e quando mio padre ci ha portato qui da Ginevra ho avuto qui il mio primo pezzo di pizza e ricordo i marinai americani della sesta flotta che si divertivano a mangiare la pizza Genova è la più turca delle città italiane perché c'è un quartiere genovese a Istanbul e i genovesi sono sembrati molto contenti che gli ottomani i musulmani conquistarono Bisanzio nel 1959 la strada fra Milano e Genova era molto curva e orribile adesso è meglio sono felice di dirlo ed è davvero una gioia essere qui a parlare dei miei romanzi e di letteratura sono davvero grato per questo grande benvenuto che Genova mi ha dato Orhan Pamuk grazie Grazie a tutti